Chi non lo conosce a me? Colonello Michele Arcangelo Pezza Duca di Cassano Ma tutti quanti lo conosce come frattiamo Chi non lo può dire? Sbagliamo a Baricato Sono combattuti i francesi Sono combattuti e sono pregiunti Sette anni fa Sono combattuti pure stavolta Ma stavolta non è buona come una volta Sono fatti passare i guai, che sapete? Perché i francesi sono animati Ma la guerra la sanno fatta I noi la sanno fatta come la sanno fatta loro Stavolta Stavolta Sono perduta Siamo perduta Mi è nati a parte Io oggi 11 novembre per 1806 Ma tocca ai trabuc Non è già venuta A dire vero Se è finito il diablo Dommage Ma ci parla di questo Che sta lì a dire E' finita il frattiamo Mi dispiace E' pare vero che le dispiace E' vero che mi volevano Chi disse Agli eserciti di sé Chi stesse grado di colonnello La stessa paga Tutta Ma in giustarieta In giustarieta perché Perché nome è nome Nome nel negro Non può cagliare come cagliare i clienti E sono combattuti contro il dolore Io ho gesto Poco alla piazza Sono già pronti trabucca E hanno fatto tutta la cerimonia Come se hanno fatto ora E hanno mandato I frate che accompagnano I contannati a morte E hanno fatto un sacco di chiacchiere Un sacco di cose A me tutta questa cosa Non mi piace per niente L'unica cosa Che davvero mi dispiace Che a me non la trova moglie Ma i due figli piccoli Che tengo La saluta Che non mi dispiace Che sapete Ma io non ci posso fare niente Se mi dite che mi tengo a morire Mi muore Mi puoi sapere come si dice In giustanza sempre Se mi muore Ma il tuo figlio di me Tiene la campana Campano lui stesso O con me O senza domenica Adesso Il vostro francese Che tutti che non gridano a niente Mi hanno portato pure alla messa Mi hanno fatto confessare Mi hanno fatto fare la comunione Perché mi hanno fatto vedere Che non ci rispetto Che voi Il mio fuoco Quello che esce Sento tutta la gente che applaude Che chiama i nomi di Ed Se sente pure che la scompata Montana Mi dico State calma State calma Che non ci ci piace da fare. Io oggi mi muore. Vedete quello che te l'ha da fare. Io a cui ci fu. 11 novembre 1806, se volete il colonnello Michele Arcangelo Pezza, duca di Cassano. Ma fra diavolo non sei morto. Tanto è vero che più di 200 anni dopo, ancora stiamo parlando di questo, perché alla fine fra diavolo siamo noi, è la gente nostra, è quello che è capace di fare quando si impegna a fare le cose, quando ci crede. Il 1799 è la storia nostra, l'arma nostra, quello che siamo davvero dentro, ha davvero. E quello è una storia che si verrà a raccontare, che si verrà a raccontare buona, perché chi ve lo fa scortare o ve lo fa ricordare in una maniera, alla fine non ve lo fa buono proprio con niente, non ve lo fa bene, ricordatevelo sempre.